Benvenuti a un nuovo appuntamento con l'undicesima edizione del Festival Alessandra Barocca e non solo. Ci troviamo a Castellazzo nella chiesa di Santo Stefano che ospiterà due interpreti che hanno fatto di un notevole equilibrio timbrico, di una grande forza espressiva oltre che naturalmente di una notevole unitarietà negli intenti musicali, la loro cifra stilistica. Si tratta di Cristina Mosca soprano e della pianista Emanuela Cagno. Il concerto che ci presentano è intitolato L'amor che muove il Sole e le altre stelle, citando un verso dal trentatresimo canto del Paradiso Dantesco. Si tratta dunque di un concerto che parla d'amore, che racconta l'amore in alcune delle sue tante sfaccettature e in questo racconto Cristina Mosca ed Emanuela Cagno ci faranno incontrare molti musicisti e diverse forme musicali. Ascolteremo arie d'opera, ascolteremo romanze, canzoni napoletane e altro. Quindi a tutti buon ascolto. Grazie. 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 Grazie.